Sai? Eh vabbè, GG Vai, proviamo, vai, entro qua Sono dentro con lui, bella Hey boys, benvenuti in un nuovo video Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporta un creatore Inserire il codice creatore porto Così come vedete a schermo, poi Accettare, e da ora ogni acquisto che farete Mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Allora, ve lo comincio a dire da ora Il fucile, ragazzi, spacca davvero tanto È abbastanza equilibrato, mi piace Sembra che abbiano azzeccato veramente Finalmente un'arma su Fortnite Io vi lascio il video, ma prima vi ricordo solo di iscrivervi Al canale se non siete ancora iscritti E di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete Tutti i prossimi video, beccatevi sti due game Boys, questa è una delle mie prime partite Subito dopo l'aggiornamento Di Fortnite, mi hanno dato Con mio piacere che questo fucile a pompa E l'Evere Action Shotgun Non è per nulla male, molti non so perché Ma dicono che sia ingestibile Che sia bruttissimo, che non funzioni A me, sinceramente, piace Cioè, devo essere sincero, ragazzi A me piace State, ce la faccio No, 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 sì, ce la faccio Più o meno Vabbè, l'impegno c'era No, 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 no Fermo Fermo che serve a me, frate, ti prego Fermo che serve a me, ti prego Eh vabbè, mi sa che già se l'è fatta Rip Già un tizio che mi sta per arrivare addosso Dovrei, credo, andarmene Il tizio era venuto a prendersi la kill Fammi cadere, fammi cadere, no Tra l'altro stava pure un altro tizio ancora 3-5, 3-5, dai Dai che tanto ora mi arriva quell'altro addosso Dai, fucile a poppa, grazie Ok, ce la posso fa? Ti dato male? Ma cavolo, era sua Ah, questa è mia Eh, fra, mi sa che ti è andata molto male, sai? Eh, vabbè, GG Vogliamo un po' di questi cavoli, ragazzi Che fanno sempre bene Comunque, ragazzi, avevo detto Questo fucile a pompa a me non sembra così male In qualche partita di prima Con colpi addosso, neanche in testa Ha fatto 103 Con un body shot 103 Ragazzi, per un fucile a pompa non è male Bella, bra Io c'è qua, ti devo chiedere una cosa nell'orecchio Ecco qua Un bel enemy player Ci becchiamo una taglia E dov'è sto tipo? Sweetisense Oddio, non è vicinissimo pensandoci Ok, ragazzi Credo che il tizio sia que... Non è quello Non è assolutamente quello Non è vero Che fa? Non fa entrare? Ah, è un genio Ah, li aiuto io Prante però qua Oh, cosa ho fatto? Va bene Ok È andato molto nel panico sto tipo Peccato Cecchinata non ho capito da dove però Questo è un problema Vorrei cercare un punto cieco Ma non so qual è il punto cieco Che è l'unico cieco Qua so io che non lo vede il nemico Cavolo Questo ha fatto male Ok Forse non era il tizio della taglia Pensando bene Forse non lo era Uh, che divertente questo tipo Vai bro Giochiamo Vai Entra qua Dai che sei forte Che sei a tryhardata mezz'ora Pure in altro Dai, seri Ho lasciato pure Una pozza grande Mamma mia ragazzi Che ho combinato qua Ok Si stanno fightando un botto di persone Questo mi ha visto Bello Potevi non vedermi Magari 37 Questo non era bello Questo non è bello Questo che sta accadendo Non è per nulla bello Vabbè però questo scatto Bella bra Oh No Uh Bra Devo gestire meglio i tempi di ricarica Ragazzi Perché questo fucile a pompa Ha solo un difetto Ed è il tempo di ricarica Che c'è bisogno Tra un colpo e l'altro Eppure lo sapevo Eppure lo sapevo In cuor mio Uh 52 fra Ma non ho Non ho bouncer No Devi sparare da quelli Eh Ma è bella fra Mi è piaciuta questa mossa Ma basta Ma basta Ma non ce n'è bisogno Che ogni 2x3 ci sto io in mezzo Ma 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 lasciatemi stare Una mossa tanto Io l'altro fucile a pompa Non lo vi Fa niente Pure se è epico Voglio questo Devo provarlo Mi piace Devo dimostrare a tutti Che è forte C'è un po' di rotation Sulla safe Anche se questo tipo Uah Non mi aveva visto Ma non ha capito dove sono Neanche capito dove è partita Eh infatti Quello stava alle spalle Stanno due alle spalle Ciao Complimenti per essermi Mi ha rubato la kill sto tipo Cioè sei serio Quello mi era entrato nella box Se la prende lui la kill Ma Dio Santissimo Se perde godo eh Non so ne dove è il tizio In testa Io qua sto costruendo Mi sono preso alla ground Ok forse Non mi sono preso alla ground Ok ho la ground Non lo vedo Sono dentro con lui Bella Devo curare Mi devo curare Molto velocemente Qua è stato affezzato Di bouncer Questo non me l'aspettavo Per poco Eh no raga Ma io lo devo fare A sto tipo Io se non lo fai Tu muoio Sì Provo A quello che succede Raga 57 E godo Questo c'è Aveva pure i medikit Prima partita vinta Dopo l'aggiornamento Con questo fucile a pompa Ragazzi sono esti Che dire Follettini E follettine Applantelo qua Vieni 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 che c'ho 190 Vai 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 Non so se ti è convenuto Però va bene Mi ha dato più fastidio Alla vita Eh bella per te Bella lì Oh due puzze grane No queste ce le portiamo Calmi 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 tu Eh vedete Vedete Certo Certo Mamma mia C'è pure il jetpack Che simpaticone Ma no ma è il bot Capisco se il bot è un nemico Non credo che questo Possa mai essere un Non capisco Ragazzi sono confuso Sono confuso Non capisco se è un bot normale Io credo sia un nemico Era un nemico Ok scusatemi Stava giocando Solo come Come il mandaloriano Vabbè Sì La festa qua Bella bro Tu che mi dici Bella taglia Fantastico Ma è molto vicino Il tipo della taglia Sì sì è lui C'è Alexa No Si chiama Alexa Ma a me ricordo come si chiama Sono morto Che cosa bella Come sto a materiali male Malissimo 103 Dai Non posso perderla Non posso Non posso Non posso Godo 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 tanto Godo tantissimo Clappiamolo Clappiamolo Ua C'era una mia leggendaria Ragazzi però L'arma E che Che teneva questo Ragà però Non è che al volo Acchiappa una taglia Al volo proprio Dai Enemy player Bella Ciao Wolverine Fantastico Ah sta qua Fra l'altro Bello Ma proprio così Me lo dici Con questa faccia Con questa consapevolezza Vabbè Wolverine Micetto Micetto Ora viene Mi distrugge Ti faccio vedere Io vado sulla mia taglia Ragà Stanno due nemici a destra Però non fa niente Ah ma io so dove Ok Eh un bot ragazzi Vabbè Ok Ma per ora Gli lascio fai dare Mi prendo intanto Il teletrasporto Alla shot gannato Devo dargli Pressione Bloccato per poco Lo devo fare di meglio Dai Sono stato sopra Per poco Chiudi Bella L'ho chiuso io Da solo Oh cavolo Ok me lo sarei dovuto aspettare 22 Fantastico Dai fra Eh lo tengo Tanto si è curato Ok Diciamo che Non è servita molto Questa cosa Questa shockwave Granade C'ha la gente Nella vita Basta 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 Non ci capisco più niente Non me lo prende Questo muro 114 Dai godo 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 Muto Ti devo grappare Ti devo grappare Bravo Sto fucile a pompa Raga Approvato Per quanto mi riguarda Voto 9 Su 10 Quindi raga Che dire Sto fucile a pompa L'avete visto Spacca il mio voto L'avete sentito 9 9 e mezzo Su 10 L'unico problema Che ovviamente Lo rende molto Equilibrato E il fatto che Tra un colpo E l'altro Che viene appunto Sparato Bisogna aspettare Un po' di tempo Però ci sta È abbastanza equilibrato Mi piace È forte Quindi gg Tanto vi ricordo Ancora di iscrivervi Al canale Se non l'avete ancora fatto Di attivare la campanellina E noi boys Ci becchiamo Alla prossima Ciao